Massimo Bessone, capolista e più votato dei quattro consiglieri eletti dalla Lega. Gli argomenti non sono poi molti, noi staremo ad ascoltare, vedremo quello che loro ci propongono, l'importante è non svenderci, ascoltarli e poi noi decideremo quello che è il meglio per noi e soprattutto per i cittadini. Per quanto riguarda l'elettorato di lingua italiana che vi ha accordato una grande fiducia, che cosa avete in mente e quali sono i programmi essenziali per il gruppo italiano? Io sono sempre dell'idea che noi siamo un partito territoriale, perciò lavoriamo per tutti e tre i gruppi linguistici, tenendo sempre fede che non dobbiamo svendere la nostra identità, la nostra italianità per un posto in giunta. Perciò noi partiamo forti del fatto che loro sceglieranno sicuramente noi, andremo lì a trattare, però cercheremo di fare anche gli interessi del gruppo linguistico italiano. La Fox Patria ha detto non tratto con Salvini, tratto con i candidati locali. Possiamo anche capirli, in effetti si tratta di elezioni provinciali, io sono stato delegato da Salvini e da Calderoli per andare a trattare, andrò lì, parlerò, mi porterò agli altri tre consiglieri, perché giustamente li presenterò al Presidente Compaccia e al Segretario a Camer, dopodiché riferirò a quello che abbiamo trattato a Milano, perciò penso che sia anche giusto. Si sono fatte molte ipotesi di giunte alternative rispetto a Fox Partai Lega, lei cosa pensa? È giusto che la Fox Partai si guardi intorno e scelga, noi per forza non dobbiamo andare in giunta, per forza non vogliamo una poltrona, ma credo che possiamo essere il meglio per questo Paese e certamente lo faremo senz'altro. E quali sono i programmi per un alto adige migliore? Ma per un alto adige più sicuro, per un alto adige di cui i cittadini non debbano aspettare tanto per le file d'attesa per la sanità, ci sono tante cose che si possono limare, tante cose che si possono migliorare. Adesso andremo a trattare, andremo a vedere e poi ci metteremo il cuore e ce la metteremo tutta. Ci sono delle competenze specifiche che vi stanno a cuore? Ma senz'altro quelle più sul sociale, perché quelle che sono poi sempre i nostri ideali del partito, perciò vedremo di migliorare quelle che sono la sicurezza, il rispetto del territorio, il rispetto delle persone, perché non è più normale che donne e anziani non possano più girare per Bolzano la sera o per la provincia.